Salve a tutti ragazzi, sono Mattex e bentornati in questo nuovo episodio della carriera natura con il Feyenoord qui su E22, qui sul mio canale. Quest'oggi vedremo tre partite probabilmente giocate con una barra due simulate, andremo a vedere più nel dettaglio quali, giocheremo lo scontro diretto contro la Zed, attualmente terza in classifica, giocheremo la Coppa d'Olanda contro il Twente, semifinale oltretutto di Coppa d'Olanda, quindi partita molto 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 importante, poi simuleremo la gara contro il Groningen, magari in maniera lenta, vediamo, e poi giocheremo la gara contro il Rennes per l'andata degli ottavi di conference, quindi anche qui partita molto molto importante per la stagione. Non so ancora se simulare Pex Volley in questo episodio oppure nel prossimo, questo lo luteremo poi assieme tanto, nel prossimo sicuramente giocheremo Rennes ed Ajax, poi dipenderà tutto dal fatto se riusciremo a passare o meno il turno di conference, da lì vedremo sorteggi, calendari vari. In questo momento Ajax a 62 punti, noi a 53, AZ 49. Noi riuscissimo a vincere, andremo a più 6, quindi staccando un pochettino la Zed, cercando di accorciare sull'Ajax, ci troveremo a metà distanza, cioè 6 dall'Ajax a più 6, cioè a meno 6 dall'Ajax a più 6 dalla Zed. La Zed che è un pochettino stanco come squadra, vediamo forma fisica un po' titubante, a parte Evian molto in forma, anche Windal, siamo lì. Dall'altra parte il nostro Feyenoord con Bilo tra i pali, Trauner, Senesi, Dorley e Pedersen in difesa, Kokciu, Ausnes e Till a centrocampo, Nteca, Sinisterra e Wolemark davanti. Parte dalla panchina Illich, quest'oggi un pochettino più stanco rispetto al solito, magari giocherà, anzi, senza il magari, giocherà sicuramente in Coppa, ma per adesso lo facciamo riposare, date le tante partite che avremo poi consecutivamente. Quindi, andiamo a giocarci a Zed contro Feyenoord, scontro tra seconda e terza della classe. Trauner prova a esporsi, ma al centro rimane vuoto, bravo Senesi, poi Till, controlla, appoggia a Sinisterra, malino questa volta, attenzione adesso ancora la Zed, Carlson da fuori, Bilo, calcio d'angolo. Forse mano di Ausnes, stoppa con l'avambraccio, ed è calcio di rigore per la Zed. Andiamo a rivedere, qui dal replay, stop, e poi mano, anzi, senza avambraccio, proprio mano, piena di Ausnes. Carlson contro Bilo, prova a Carlson! Palo fuori, palo è interno fuori, Vitri, palla bassa al centro, quasi, Pavlidis, Carlson! Questa volta non sbaglia, il duello contro Bilo continuo, questa volta lo vince lui. 1-0, aspetta rinforzi, c'è Wolemark, servito ora, al centro c'è Nteca, Wolemark l'ha visto, fa tutto da solo. Wolemark, prova anche il destro, Jensen impedisce la gioia del gol. Trauner, Ausnes, Nteca, aspetta Thiel, prova a servirlo, largo per Wolemark, che questa volta non sbaglia. Destro, ottimo, sul primo palo. Sto facendo ricredere un po' tutti gli scettici. Potrebbe essere lui l'esterno per il prossimo anno, in caso di non riscatto per Nelson. Carlson, Carlson gioca bene, la Zed, calcia da fuori Carlson, cercando la doppietta, palla alta, ma non di tanto. Thiel, Wolemark, prova il tocco sotto verso Sinisterra, ottimo, il passaggio deve mettere giù Sinisterra, deve saltare due uomini, ci pensa, ci riesce. Destro, che gol di Sinisterra. Feinor di vantaggio, con una perla del suo numero 7, Vitri. Brazzi, si gira bene, Evian, la palla resta, Bilou, resta ancora Leaf, bravo Bilou, in qualche modo. Feinor da che da una parte prova a chiudersi, lancia in avanti, attenzione, Trauner non esce bene. Pallo di Pavlidis, ma era fuori gioco, Bilou ha deviato, bravo Sinisterra. A difendere di fisico il pallone, finisce 2-1, partita molto, molto difficile, molto, molto difficile, complicata per i ragazzi del Feinor, che però si portano a casa a tre punti fondamentali, perché accorciano un pochettino sull'Ajax, allungano un pochettino sulla Zed. E questo ci permette di essere forse un pochino più tranquilli per quanto riguarda la zona Champions League. Invece per il titolo di strada ce n'è ancora tante da fare. Cornelissen passa da Cdc a terzino e sinistro, fa un più 3, bene. Bene, poi non sembra crescere tantissimo, facciamogli fare laterale e difensivo, vediamo cosa porta. Mister, a ringraziare il dato ascolto e hanno fatto giocare. Prestazione autorevole, non mi ricordo di, della tua mail e di voler giocare, ma top, top, bene così. Reso conti, reso conti, dall'Ungheria in cerca del nuovo attaccante, c'è questo Papp, Papp, Papp e Ciccio, non è male, non è male. Ne Matt, no, Cochis, neanche. Fodor, però sto Papp vale parecchio, quindi magari un buon potenziale può anche averlo. Io Papp lo porterei, lo porterei, vale quasi un milioncino. Potrebbe rivelarsi interessante, invece da qua vedo questo Orejana, che anche qui ha un gran bel totale, ma potenziale abbastanza bassino. Carvacal, Vicente, ma non sembrano granché. Farò pulizia, gara contro il Tuente di Coppa che andiamo a giocarci, semifinale Coppa d'Olanda. Dall'altra parte è una gara un pochettino più, tra virgolette, sorprendente, perché vediamo due squadre non sicuramente tra le top d'Olanda, ma questo hanno portato sicuramente anche la sconfitta del PSV, proprio contro il Tuente. Dovremmo fare attenzione, turno due che invece il Tuente ha vinto 2-1 contro il Willem. Tuente che ha superato anche lo Sparta Rotterdam, sempre ai calci di rigore, con un 2-2 di totale iniziale, come contro il PSV in Doven. Ragazzi, questa è la Coppa, questo è Till, miglior marcatore attualmente della nostra squadra in Coppa. Farei un po' di turnover, ma in realtà neanche troppissimo, perché comunque saremo in semifinale e puntiamo a passare il turno, quindi mi raccomando, non sottovalutiamo niente e nessuno. Cambiare un attimo la fascia sinistra con Nusa e The Hall. Davanti Nteca, centrocampo super titolare. Nelson Verbruggen lo lascerei in panchina per quest'oggi. Piuttosto magari lo facciamo giocare in simulazione contro il Groningen. E porterei Greimel, anzi, porterei Hendricks in panchina. Magari possiamo fare attenzione a farlo entrare durante la partita al posto di Senesi. Però, vediamo, vediamo. Dall'altra parte del Tuente, con Ugalde davanti, lap dietro. Bella squadra comunque, quella del Tuente. Poi ovviamente se è in semifinale qualcosa di buono l'avrà fatto. Attenzione alle fasce, molto veloci. Nusa, aspetta Illich, poi prova a scattare per saltare l'uomo. Aspetta ancora Illich, aspetta il pallone, è servito. Dentro per Nteca, prova, Mancino sul primo palo. Nteca ci mette la firma subito. Il numero 9. Nusa, sguardo al centro, c'è Nteca, prova il cross. Arriva tutto facile anche per il portiere. Poi Till ci pensa da fuori, destro. Che tiro. Non ci ha pensato due volte lui. Ha visto la porta un pochino, un pochino scoperta. E ci ha provato. Palla in calcio d'angolo. Nteca, Till può aprire verso Nelson. Palla un po' cortina, ma arriva comunque all'ex giocatore dell'Arsenal. Nelson! La traversa di Reis, Nelson. Sinisterra, da solo, sinisterra. Ci pensa, destro. Un'altra magia. Un'altra magia di sinisterra. Che nella realtà è andato a Litz. E sicuramente tante squadre europee lo vorranno a fine stagione. Al momento sinisterra però è un giocatore del Feyenoord. E sta incantando tutti. Che gol. Trovante Caccia, Milambo, c'è Aursness. Faccia veloce dall'altra parte. Sinisterra, stop. Destro. Palla ribattuta questa volta. Un'altra grandissima azione del Feyenoord. Un'altra grandissima conclusione di sinisterra. Corso al centro, Waldenbo Zwinkel. Alla fine gol, ma è fuori gioco. Neanche la gioia del gol della bandiera per il Twente. A pochi secondi della fine, Trauner stoppa e lancia in avanti verso sinisterra. Finisce qui Twente, Feyenoord. Finisce 0-2. E il Feyenoord è in finale di Coppa d'Olanda. Bene, 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 bene così. Mr. Mattex contento col suo abito a Bordeaux. Le sue squadre difficilmente raggiungono finali di Coppe Continentali. Ci è arrivato questa volta. La sua prima stagione al Feyenoord. Finale di Coppa d'Olanda. Marchiata la semifinale con Tekai in sinisterra. Soprattutto con sinisterra. Che è entrato e ha fatto il devasto. Ha praticamente chiuso lui. Tiri 1 del Twente. Chiusi completamente. Valvik in finale 3-2. Contro i Goethe e i Eagles. Una finale che in realtà in pochi magari si sarebbero aspettati. Magari ci si aspettava più un Ajax PSV, Ajax Feyenoord. E invece così non è. Aggiornamento dell'osservatore. Premio torneo 100.000 euro. Pochino, pochino. Però c'è Jonker che non è malino. C'è Van de Venne che è malino. E per il resto nulla di che. C'è questo Peters che sembra un po' interessante. Ma il valore è abbastanza bassino, bassino. Andiamo a simulare in maniera lenta la gara contro il Groningen. Sperando ovviamente di portarci a casa 3 punti. Che sarebbero molto importanti per la nostra corsa. Alla conferma del secondo posto. E alla ricerca di qualcosina in più. Palla al centro. Attenzione a Till subito. Buono Young Baccio che prova a cercare il gol. Ancora nulla da fare. Till ci pensa. Till! Quasi. Dessers 1-0. Bene così. Feyenoord si porta in avanti. Al trentasettesimo minuto. Dessers traversa. Goal di Young Baccio. Bene. Young Baccio che ritrova il gol. Ritrova anche un po' di serenità tornando in campo. Forse rigore. Calcio di rigore. Per il Groningen. Larsen contro Bilou. Come al solito mi affido il fato. Questa volta però mi sa che gol. Goal. No fuori. Fuori. Sbaglia Larsen. Bene. Calcio di rigore adesso per noi. Calcio di rigore di Feyenoord. A battere Kokciu. Dai. Dai 3-0. Sbagliamo anche noi. Sbagliamo anche noi. Ci sta. Ci sta. 3-0. Direi Snelson. Chiudiamo qui la partita. Bene. 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 Pausa. Andrei direttamente risultato per questi 3 minuti. 3-0. Bene. 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 Benissimo. Adesso aspettiamo che l'Ajax faccia la sua partita. In realtà sperando che magari non faccia 3 punti. Siamo a meno 4. Siamo a meno 4. Qualcosina abbiamo recuperato. Siamo a più 7 sulla Z. Bene. Quindi adesso la lotta è per il primo posto quasi. Cioè per realtà ci sono ancora un po' di partite. Quindi non bisogna stato lottare nessuna partita. Nessuna squadra. Perché rischiamo il posto in Champions League. Ma io come primo obiettivo avrei quello. Poi nel momento in cui abbiamo centrato sicuramente la Champions League puntiamo al campionato. Affrontiamo dunque il Rennes in Conference. Rennes che arriva da un 4-0 nel totale contro i Rangers nel turno preliminare. Con 3-0 soprattutto nella gara di ritorno. Per quanto riguarda invece la fase a gironi. Il Rennes è arrivato secondo. Alle spalle del Tottenham. 4 vittorie. Un pareggio ed una sconfitta. 11 gol fatti. 5 subiti. Quindi ha comunque attaccato parecchio. Ha un buon attacco. Ha una buona difesa. Riesce a coprire bene la fase difensiva. Vediamo cosa possiamo fare contro il Rennes. Ricordiamoci che questa ovviamente è l'andata. Però la giochiamo in casa loro. Quindi facciamo attenzione. Tra l'altro in teoria non dovrebbe più esserci la regola del fuori casa, in casa. Per quanto riguarda la regola dei gol. Credo anche in Conference. Credo. Ma non ci metterei la mano sul fuoco. Andiamo a giocarci questa parità. Molto importante. Andrei anche a fare la conferenza stampa. Ciao, ciao. Come stai? Esatto. Pressing a primo controllo non te lo consiglio. Cioè pressing appena perso il controllo no. E pressing ostante neanche secondo me. Come pensai di preparare questa partita? Vi qualificherete il prossimo turno? Dobbiamo fare attenzione. Lo dicevamo prima. Non bisogna tutta l'autore della squadra. Dobbiamo essere pronti a tutto se vogliamo andare avanti. Assolutamente. Magari tipo pressing una volta perso il pallone. Al massimo. C'è qualche possibilità che la squadra Ren possa vincere? Abbiamo... Può essere. Può essere. Esiste la possibilità che la squadra vinca. Ovviamente. Le turno non sono mai scontate. Anche se stiamo attraversando un momento di forma. La sua squadra è in un ottimo momento. Crede riuscirete a confermarevi sugli stessi livelli anche nelle prossime partite. Possiamo fare ancora meglio. Possiamo ancora fare molto molto meglio. Moretti uccide una serie di buone prestazioni. È vero. Ma possiamo fare ancora meglio. Grazie. Finiamo qui quelle domande. Formazione fatta. Giocheremo con Bilo tra i pali. Senesi. Trauner. Pedersen e Dorle in difesa. Ilic. Kokciu. Etila a centrocampo. Sinistra. Ranteca. E Nelson. L'attacco. In panchina ci portiamo. Verbruggen per i pali. Hendricks. Reggioratore in difesa. Aursnes. Milambo a centrocampo. Nusa ed Essers purtroppo in attacco. Dico purtroppo perché è stanco. Quindi non so quanto potrà dare una mano. Però vediamo. Magari gli ultimi dieci minuti potrebbe essere sicuramente un buon inserimento. Dall'altra parte il Rennes. Bella squadra. Bella formazione. Bolligio sulla fascia. Hanno anche Doku se non sbaglio sulla fascia che però non usano. Cataldi al centro di questo centrocampo che tra l'altro è una nostra vera conoscenza che avevamo al Parma. Andiamo in partita. Rennes contro Feyeno. Andata degli ottavi di finale di Conference League. Ilic. Per tornare indietro per smarcarsi. C'è Etila. C'è anche Nelson. La palla è per lui. Nelson. Prima occasione della partita. Con Reis Nelson. Poi Ilic. Prova a saltare un altro. Ilic. Calcia bene. Trava il difensore a respingere. Attenzione. A Buko in difesa. Lasciato da Trauner. O meglio da Senesi che è andato un pochettino più avanti. Calcia bene la board. Ma non benissimo. Palla fuori. Anzi. Proprio male ha calciato. Poi Kokciu intercetta. Tila. Ci pensa da fuori. Ci pensa. Ci pensa. Lo prova. Gomis. In calcio d'angolo. Progrossa al centro. Bruno Costa. La board. La palla rimbalza sul corpo di Senesi. Che devia in qualche modo. Tra ora è grossa al centro. Bravo Trauner. Di testa all'incornata. Per far scappare via i suoi till. Largo sulla sinistra. C'è Sinisterra. Al centro centeca. Sinisterra l'ha visto. Deve provare a servirlo. Ma Sinisterra fa tutto lui. Fa tutto da solo. Sinisterra. Che gol ha fatto Sinisterra. Mamma mia. Tutto lui. Tutto da solo. Questa volta un po' di egoismo ha fatto bene. 1-0. Gran golla. Bravo Till. Bravo Till. Vai Till. Impressione. Till è da solo. Deve far tutto da solo Till. Col destro. Calcia fuori. Pedersen. Preferito lui a Gertruida. Pedersen. Valcross verso un Teca. Che stacca di testa. E sorprende tutti. 2-0. Feyenoord. All'ultimo secondo del primo tempo. Terjea. Attenzione. Un varco. Nella difesa del Feyenoord. Ci pensa Bilou. Anzi. Battezzato quasi il pallone fuori. Provato ad andare sul sicuro fermando il pallone. Passa tra le sue braccia. E 2-1. Kokciu. Bravo. Bello. Lancia per Nelson. All'altra parte sinisterra. Nelson prova a saltare un uomo. Ci pensa. Calcia. Che rischio. Sfiora il palo. Tocca la rete esterna. Il norvegese. Deve saltare. L'uomo lo salta benissimo. Poi c'è in Teca. Praticamente libero. Di segnare. 3-1. Doppietta di in Teca. Faceva una doppietta da qualche partita. Bene così. Anche perché. Nelle prime partite di questo episodio. Abbiamo visto un Teca. Un po' sotto tono. La bordo da fuori. Bilou in calcio d'angolo. Feyenoord. Ogni tanto si scopre un pochettino. Ren che non molla. Till. Nelson. Nelson ha visto in Teca la palla del centro. Per lui in Teca. Tripletta. Prima. Tripletta con la maia del Feyenoord. Non sbaglia. Nulla quest'oggi. Zampata vincente. 4-1. E permette sicuramente al Feyenoord. Di giocarsi il ritorno in maniera un pochino più tranquilla. Till. Il marcatore a Grujic. La board si smarca. La board bene. Due volte. 4-2. Il Ren accorcia ancora una volta le distanze. Mai rilassarsi contro queste squadre. Mai rilassarsi in Europa. Sultima azione di questa partita Till. Ci pensa. E poi. Tiene il pallone tra i piedi. Finisce qui. Feyenoord. Batte Ren. 4-2. Con la tripletta fondamentale di Intecca. 3 tiri. 3 gol. L'uomo più cinico del West. Oggi si è riscattato dopo qualche partita un po' sotto tono. Bene per il Feyenoord. Male per il Ren. Si deciderà poi tutto al ritorno. Allo Stadion Feyenoord a Rotterdam. Per il passaggio del tour nei quarti di conference. Ma intanto. L'andata è stata archiviata. Siamo giunti alla fine di questo episodio. Feyenoord che attualmente si trova in seconda in classifica con 59 punti. 66 l'Ajax. 53 la Z. Tra l'altro con noi che però abbiamo una partita in meno. Quindi vincendo potenzialmente andremo a 62. Quindi di nuovo a meno 4 dall'Ajax. E andremo a più 9 sulla Z. Facciamo attenzione perché ovviamente più punti mangiamo alla Z. Più siamo sicuri di qualificarci alla prossima Champions League. Cerchiamo comunque di mantenere una breve, una piccola distanza con l'Ajax. Per cercare il passaggio del turno. O meglio la vittoria del campionato. Passaggio del turno che invece andremo a giocarci nel prossimo episodio contro il Ren. 4-2 nell'andata. Cerchiamo di fare un buon ritorno. Così comunque da conservarci energie. Perché dopo ci sarà guerra contro l'Ajax. Nel prossimo episodio quindi simularemo in maniera lenta la gara contro il Pexvolle. Giocheremo la gara contro il Ren. Giocheremo la gara contro l'Ajax. E poi tutto dipenderà dal fatto se ci qualificheremo oppure no in Conference. Vedremo poi magari i quarti. Ci saranno poi ancora partite contro il Willem. L'Era Classe almeno che vorrei giocare. C'è la finale di Coppa d'Olanda. Poi Utrecht e Fortuna. Le ultime tre sono interessanti. PSV, GoHead Eagles e Twente. Un bel finale di campionato si prospetta. Nei prossimi episodi finirà la prima stagione del Feyenoord. Deca tripletta. Tra l'altro Sinisterra oggi è esploso. Coccio un po' meno. Ci sono tanti giocatori che sono un po' in dubbio nella prossima stagione. Tra l'altro c'è anche Nelson che potrebbe essere buono da riscattare. Dall'altra parte però abbiamo quei piccoli talenti in primavera da far crescere. Quindi vedremo che cosa sarà di questo Feyenoord nella fine di stagione. Mi raccomando, tutti i link trovate in descrizione, il gruppo Telegram, il proprio di Instagram, Discord, tutto, tutto, tutto qui sotto in descrizione. Anche il canale dove facciamo sempre live. Tra l'altro iniziamo anche il nuovo Let's Play, mi raccomando. Un bacione, un salutone e ci vediamo alla prossima, sempre qui sul mio canale. Ciao ragazzi.